Tu hai grande esperienza di eventi internazionali, come ti aspetti questo villaggio sulle navi? Io credo che sarà una chicchetta, sarà una cosa spettacolare, perché vivere il concetto di villaggio olimpico sulla nave è anche un po' il clima di vacanza, sport vacanza, quindi un ottimo connubio. Credo che uscirà una bellissima cosa. Napoli è una città che in quell'occasione proprio con MSC offrirà tanto e sono sicuro che uscirà veramente una grande competizione. Tu sei molto alto come atleta e uno dei temi in questo avvicinamento è stato la lunghezza dei letti per gli atleti alti. Tu sei stato in crociera, come ti sei trovato bene? Guarda, io mi sono trovato sempre benissimo. In vacanza si sta sempre bene, in quel caso voglio dire, con lo sport, quando si pensa solo a vincere il letto conta poco, l'importante è appoggiarci sopra, riposare bene e basta. Credo che comunque non ci siano grossi problemi.